vediamo se riesco così mi suggero c'è nessuna ciao ciao marina ciao merlino giul ciao rosa ciao chiara ciao katia ciao a tutta la diretta così ciao paola ciao bimamma ciao valli chi vi può vedere i diavoli diavolo numero uno l'altro diavolo non so dove sia forse è qui in basso che tenta la fuga ciao antonella ciao elisabeth ciao maria ciao ciao non so cosa combino un abbraccio grande cristina stavolta non mi sono pensata là è vero rosa grazie i topini sì i topini sono stati messi a cuccia perché sono stati in giro fino adesso adesso basta noi siamo via col camper a marina marinella di sarzana comunque toscana liguria comunque vicino massa carrara il mare è disperso qua davanti c'è proprio il mare a pochissimi metri qui dove siamo io non capisco se queste luci vanno bene o no consumerò tutto quanto e anche io adoro il camper infatti questo weekend non dovevamo partire avevamo detto no dai stiamo a casa poi a un certo punto abbiamo detto no partiamo alla fine ti passa di più venite a via reggio domenica eh lo so che c'è il carnevale a via reggio ma l'ha detto anche Claudio vedremo adesso domenica cosa fare che forse dovremmo tornare un po' presto domenica vanno bene sì ma tanto guarda bene o male quelle sono qui siccome mio marito ha rito col metal detector ovviamente io mi annoiavo ho detto perché non salutare sto convincendo mio marito che ha paura dei ladri sembra che ho mille paure nella vita però quella dei ladri non ce l'ho mai avuta non so perché anzi io sono un po' incosciente pure delle volte anche quando sono a casa che abito al pian terreno quindi insomma dovrei avere delle precauzioni in più e non ce le ho oggi ho visto il tuo video sul fatto che inizierai a moderare i commenti credo sia una buona scelta alla fine di mantenere un clima sereno tra i nuovi iscritti sì ovviamente non è che modererò i commenti se qualcuno dice la sua non mi piace c'è libertà di di parola e di espressione sempre nel mio canale ci mancherebbe però sì perché sono tutta di lato io però tornando siamo in una parcheggio una spiaggia libera però c'è il bagno qua di fianco tutto illuminato e poi c'è un ristorante qua di dietro comunque tutto illuminato non sono proprio sperduta sono sperduta perché vedremo domani perché adesso non si vede niente volevo fare qualche ripresa ma ovviamente c'è troppo buio io ho il problema risolto youtube mi ha disattivato i commenti ancora ma io avevo valli non so se il problema del fatto che comunque la questione dei bambini perché io vedo tante ragazze che seguo che sono mamme come te giovani mamme comunque che hanno dei bambini piccolini che ovviamente ogni tanto pazzi che non è il loro video perché non è che li possono chiudere nell'armadio per girare un video che hanno avuto i commenti disabilitati tutte quelle che comunque non so se è la questione dei contenuti per bambini o non per bambini io all'inizio non avevo capito cosa dovevo fare perché ti facevano scegliere se il contenuto era adatto ai bambini o meno io non parlo di cose da bambini ma non credo che eh vedi ma anche oh adesso non mi viene il nome un'altra ragazza che seguo che ha un bambino piccolo certo che sono rincoglionita non mi ricordo come si chiama sì è per quello che mostro cioè voglio dire boh è una roba un po' assurda secondo me cioè nel senso sì tutelare minori ok però c'è tutte le ragazze che seguo io che sono delle giovani mamme insomma che fanno vedere la loro vita bene o male parlano anche d'altro noi parlano di bambini non fanno niente di male se ogni tanto sbuca il bambino che chiede alla mamma una cosa non capisco buonanotte Pino Giuseppe qui prima di dormire è ancora lunga potevo ancora struccarmi per quel poco che sono struccata ciao Ale poi mi devo fare la doccia l'ho fatta allora l'ho fatta oggi pomeriggio alle 4 e mezza la doccia e che ho lavato anche i capelli però a me piace fare la doccia sul campo mio marito si lamenta perché diceva l'hai fatta oggi fatela domattina no eh anche pink fashion e anche ma perché non mi viene il nome adesso mi verrà il nome in tante comunque giovani mamme hanno questo problema non capisco boh vabbè che youtube è strano e cioè chi fa video lo sa che comunque certe volte fa delle cose assurde l'altro giorno a me mi hanno bloccato un video cioè mi hanno bloccato ora si sono decisi a dirtelo loro direttamente di quando pubblichi un video di non metterlo subito pubblico ma metterlo non in elenco che significa che è online quindi passa i loro controlli tipo però nessuno lo vede se io non mando il link perché cosa succede c'è una specie di computerone gigante che fa una prima scrematura dei video che sono comunque con contenuti adatti o meno e io avevo fatto questo questo video sulle palette nude quindi questa parola nude nude insomma lo aveva diciamo destabilizzato ne ho parlato anche sull'idea perché la cosa mi aveva fatto ridere perché il mio video non era lato la maggior parte degli inserzionisti poi io ovviamente ho chiesto una revisione e me l'hanno comunque fatto passare perché non parlavo di niente di osceno nel mio video però le palette nude aveva destabilizzato youtube per un attimo bisogna stare molto attenti a quello che si scrive soprattutto poi vanno online delle porcherie fuori dal dal normale perché vanno online certi video che sarebbero proprio da non lo so da bloccare da internare gli youtuber che li fanno però quelli vanno bene non lo so ciao palmira sommà oh sommarivs ciao palmira scusami non ci vedo sono mezza cecolata non mi decido a mettere gli occhiali si si proprio valli cioè si vedono ciao carmela delle cose sto seguendo no non non lo guardo Sanremo mi annoio onestamente un po' mi annoia è un tipo di trasmissione che un po' mi annoia anche se quando ero più giovane comunque bambina ragazzina non lo guardavo sempre perché era una tradizione di famiglia lo sai lo sai che ti si vuole proprio bene sei speciale no che carina che sei ah guarda oh valli che argomento comunque Ale grazie mille non sono così speciale io secondo me sono normale forse su Youtube non si vede tanta normalità è per quello che sembro speciale valli l'argomento di comprare follower e visualizzazioni guarda non posso tirar fuori perché se no mi viene mi sale come si dice non so il demonio in corpo mi viene però è una cosa che non so porto tra l'altro tu lo sai cosa è successo quest'estate perché poi ci siamo parlate veramente non ho più parole io ormai non parlo più con nessuno su Youtube cioè nel senso pochissime seguo allora le mie youtuber le seguo sempre no tra cui anche Lavalli se vi va di andare a vedere il suo canale è molto molto carina lei e poi due bambini che sono qualche cosa di cioè non so a me io non ho bambini però mi piacciono molto cioè ho dei nipotini quando guardo certi video che vedo le faccine di questi bambini ma anche le stories di Instagram proprio mi a parte che a volte rido come una matta perché i bambini fanno delle cose che sono sono stupende sono stupende ciao country feedback sì sono troppo belli i tuoi bimbi valli tutti e due piccolino e dolcissimo la femminuccia è veramente una peperina con una faccina troppo bella veramente e niente sì adesso li comprerò anch'io le visual ma io non so neanche come fanno cioè io non ho ancora capito come fanno perché io ci ho pure provato a guardare quest'estate ma non di comprarli però per capire ma costano un sacco di soldi ma come fanno se parliamo di Instagram ho saputo da poco ho saputo da poco sono dell'89 quindi non ero ancora nata che nell'84 c'erano stati i Queen e dico i Queen e li hanno fatti cantare in playback non commento altro veramente sono parole io nell'84 avevo sette anni sette anni appena compiuti sì perché io sono di gennaio credo che Sanremo sia sempre andato stavo dicendo online ciao andato comunque in onda a febbraio a febbraio credo comunque però beh sì ma poi mi ha un po' annoiato perché è diventato un po' anche quello il il non so lo specchio della televisione anche quello lì ogni tanto ci fanno delle polemiche create così a caso in modo inutile giusto per fare un po' di audience così uno vuole cicciarci sopra e va a guardare perché sì è una roba che oramai mi ha annoiato quando ero più piccolina ripeto lo guardavamo sempre perché comunque lo guardavamo in casa a me hanno mandato email tante aziende che lo fanno anche a prezzi bassissimi ma io non lo faccio per riscattare gli iscritti ma sì cioè non ha neanche non ha senso non ce l'ha un senso cioè nel senso comprarsi boh cioè non lo so ma a parte che ripeto cioè io non ho ancora capito come youtube instagram vabbè facebook è una cosa differente però con tutte le leggi i controlli le merdate parole nel titolo stai attenta a questo possibile che non riesca a comunque non rintracciare capire chi è che fa questo giochino e chiudegli profilo cioè proprio chiudegli profilo non so come mai cioè forse c'è un giro più più grande di quello che io penso dietro sta cosa qua perché anche chi fa questo commercio fra virgolette di persone che comprano questi benedetti follower voglio dire dovrebbe fare in teoria qualcosa di illegale e quindi non capisco come possa esserci questo giro di di boh non lo riesco a capire proprio non lo so cioè non boh c'era anche quello lì che un altro affare che era uscito tempo fa per cui tu ti ritrovavi nelle stories delle persone che anche con un seguito enorme magari che tu segui ma loro non ti si cagano di pezza però te li ritrovavi che ti visualizzavano le stories e dicevo ma questo qui a me perché mi guardano le stories che se c'è c'ha tipo non so 300.000 iscritti cosa 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 ci trova nelle mie stupidate invece poi ho capito che è un altro tipo di come si dice di acquisto quello perché tu praticamente c'è una specie di algoritmo che fa sì che tu risulti nelle storie di altre persone cioè come spettatore per cui comunque ti puoi avere un ritorno di iscritti cioè non non mi chiedete cosa vuol dire perché io non ho capito non lo so c'è però una gran fame da arrivare questo ve lo posso assicurare proprio con da arrivare poi non ho capito neanche io dove cioè c'è stato un periodo che io avevo veramente le ovaie nel programma avevo le ovaie nel programma Sanremo no c'è proprio sulle ginocchia per non dire un'altra cosa che io non ho perché sono una femmina perché c'era questa mania dell'iscritto ricambi io non sapevo che era solo la punta dell'iceberg di tutto quello che c'è dietro la follia totale credetemi di alcune persone che ovviamente adesso io non nominerò mai nessuno però ci sono persone totalmente insospettabili con canali ecco i bot di instagram pensa che mi ha iniziato da seguire alex britti adoro però cioè persone vi dicevo assolutamente insospettabili con canali piccoli come il mio ma anche molto molto più piccoli che hanno un dentino avvelenato per arrivare per guadagnare per collaborare con le aziende quindi c'è vanno scroccando di qua e di là mandando mail che non c'è niente di male a mandare una mail per chiedere una collaborazione attenzione però vanno mandando mail dove sopra ci scrivono che hanno tot iscritti su youtube tot su instagram e poi in realtà su instagram se li sono comprati cioè io quest'estate ho litigato con due persone su instagram io avevo fatto anche un video poi non ho fatto il nome ma non lo farò neanche stasera non è mia intenzione una di queste non la conoscevo l'altra la conoscevo perché ci sentivamo anche in privato e credevo fosse una ragazza insomma onesta a un certo punto questa ragazza fa video simili ai miei io mi sono accorta che su instagram io non me ne ero mai accorta me ne sono accorta perché la sua amichetta mi aveva scritto c'eravamo scambiate dei messaggi e mi sono accorta in quel modo che entrambe avevano un seguito di iscritti di 16.000 persone che su instagram non è un numero piccolo perché non è così facile e mi sono un po' insospettita ho cominciato a guardare le loro foto e mi sono accorta che nessuno le visualizzava era un po' strana come cosa sono andata a controllare con dei siti specifici che comunque collaborano anche con instagram quindi sono accreditati a fallo e mi sono accorta che avevano comprato gli iscritti comprato utilizzato dei bot non lo so che cosa comunque non erano iscritti loro anche perché c'erano tipo 100 iscritti normale poi cominciavano i nomi abdullà al bar all'acqua di là di là su e giù quindi erano tutti comprati al che mi sono arrabbiata tantissimo perché io questa persona la conoscevo tra l'altro aveva collaborato con un'azienda con cui avevo collaborato anch'io la suddetta azienda per accettare la sua richiesta di collaborazione mi aveva chiesto personalmente cosa pensassi di questa youtuber quindi io ci avevo messo la mia faccia e la mia credibilità nel dire sì sì è brava non mi permetterei mai di dire no fa schifo di nessuna però per dire lei aveva mandato la sua bella mail dicendo sai ho tot iscritti su youtube tot seguaci su instagram ed era una cavolata quindi insomma mi ero arrabbiata tantissimo in che ho proprio chiuso i ponti comunque queste due hanno chiuso i profili li hanno riaperti ora c'hanno 200 300 follower prima ne avevano 17 18 mila cioè top sei simpaticissima grazie per la tua gradevole compagnia Laura grazie a voi sono arrivata solo adesso Barbara sei di nuovo in camper anche questo fine settimana che bello siamo a marinella mi pare che si chiami di sarzana mi viene da dire marina ma si chiama marinella quindi in toscana ma questa fame da dove nasce per arrivare a dove a che pro eh cara mia soprattutto allora quando non hanno numeri troppo grossi nel senso che comunque non guadagnerebbero troppo da youtube con le pubblicità normali senza rompere le balle a nessuno per le collaborazioni cioè tu quando vai a mandare una mail a un'azienda oppure se un'azienda a me non mi ha cagato mai nessuno prima dei 10 mila 8 mila iscritti non mi iscriveva mai nessuno per chiedermi collaborazioni di aziende quindi insomma se tu hai un profilo di tot mila persone su instagram cominci a ricevere delle richieste che poi sono cretine eh costo di svendere la propria dignità sì sì ricevere i profumini omaggio ricevere queste cose qua sì sì ecco brava stavo dicendo la stessa cosa valli cioè le aziende che non controllano da dove vengo dalla Papuasia direbbe la mia amica cioè voglio dire ma vieni giù veramente con la piena del Tevere che non lo sai che al giorno d'oggi eh quando viene che ho serena Roma e intorni di Roma sono il mio sogno io non ho mai visto Roma ci sono passata in treno mi sono fermata a Roma Termini più di una volta mentre facevo i miei viaggi della speranza in Sicilia eccetera eccetera ma non ho mai visto Roma in vita mia e io prima o poi devo vederla perché secondo me è la città più bella del mondo credo quindi Castelli Romani è ancora meglio spero presto magari guarda potrei pensarci lo volevo proporre a Claudio perché andiamo via comunque sicuramente a Pasqua per qualche giorno 5Vlog sono curiosa di vederli davvero Cristina non ho mai visto Roma no mai vista Roma lo so stavo dicendo che a Pasqua stavamo per cioè stavamo per stavamo per ovviamente andare via per una settimanina le giuste ferie e volevamo andare in Francia in Provenza però io spingevo per andare invece a dormire fuori ci sarei stata dieci volte Rosa eh beata te batti mori vieni a Milano ci sono stata spesso a Milano ora metto a nana le pulci buonanotte ciao Valli buonanotte anche a te salutami le pulci che sono troppo tenere tenera e tenero e sì insomma così ragazzi capito a Como a Como sono stata sul lago di Como sì sul lago di Como ci sono nata già due volte tre volte eh che pazienza comunque sì così ci vuole pazienza anche per stare ma come in tutto ma ragazze ma è così dappertutto cioè io ho capito una cosa la prossima volta te lo dirò molto volentieri ci prendiamo un caffè in piazza duomo così per fare la Milano da bere ecco mi sembro vi ricordate tutto il Peppino a Milano quando prendono la metropolitana poi vanno su e chiedono indicazioni al vigile in francese no io volevo è uguale sono io così le prime volte che andavamo che andavo a Milano una deficiente prende le metropolitane oddio una ragazza la ragazza di campagna adesso Cri Rome è un po' sciatta ne succedono di tutti i colori eh lo so però è bella io credo che per chi non l'abbia mai vista è bellissima vi stavo dicendo che io dico sempre anche a mio marito lo dico a tutti che dove c'è la mano dell'uomo c'è lo schifo sempre cioè quindi secondo me non lo so deve essere una cosa insita in noi no voler boh quello che dicevamo prima cioè voglio dire anche io ho aperto un canale per divertirmi per condividere i fatti miei quello che mi piaceva poi è logico che se ti dicono senti ti piacerebbe che non ti guardasse nessuno o che ti guardassero tutti vi rispondo che vorrei che mi guardassero tante persone certo certo che da quando sono un pochino cresciuta e guadagno qualcosa mi piace perché no perché comunque posso levarmi uno sfizzietto posso vi ripeto non parliamo di chissà che cosa però però io non svenderei mai la mia dignità io ho detto di no a tante di quelle collaborazioni tante di quelle non mi hanno ricoperta d'oro no però mi hanno offerto soldi per pubblicizzare cose che io una volta una volta volevano farmi pubblicizzare delle pastiglie dimagranti mi avrebbero pagata non stiamo parlando del famosissimo fit che pubblicizzano tutte era un'azienda completamente sconosciuta proveniente non lo so da dove dalla cina dal giappone vendevano queste pastiglie dimagranti e mi chiedevano appunto di iniziare questo se mi hanno visto un po' po 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 e quindi ho detto aspetta che questa qua adesso gli diamo la la cambogina garcina non so come si chiami e la facciamo dimagrire durante i suoi video e poi lei li pubblicizza ma io secondo voi potevo mai prendere sta roba e propinarvela a voi a parte che ho paura ma per carità di dio chissà cosa c'era lì dentro cioè mamma mia che disagio e vabbè purtroppo è così dato il cap perché comunque siamo arrivati da una tragica provate a immaginare me in giro per Roma magari sali con due cani una tragedia eccoli qua i diavoletti della Tasmania uno è là in fondo con la giacca perché puntino soffre il freddo e ogni volta che andiamo via non per una passeggiata ma per dei giorni si ammala gli viene l'influenza perché lui non ha il sottopelo Marta invece ce l'ha ha la giacca ma non gli piace molto amore mio e no 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 aspetta vengo io vengo io che tanto alle bimbe vado bene anche qua al buio vi porto in giro per il mio camperellino accendiamo la luce ecco i puntini ecco i miei bambini piccolini oh spusoroncini ciao amore ciao qui dalla mamma vieni 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 Marta vai nelle cucce vieni vieni dalla mamma vieni anche tu vieni vieni che ci sono le bimbe che ti vogliono salutare ma non c'è più nessuno qua dove siete andati tutti eccovi qua Marta Marta aspetta il suo il suo amore sono dal vivo dove ero finita mi ero bloccata ciao Cuba Libre mi sa che ho poca connessione cazze qua saluta le bimbe dai non mi limonare a me per piacere bruta loro ciao brutti bambini il mio scimione guarda l'anime per aspettare ogni tanto lagga perché c'è poca connessione qua ragazze ora vi devo salutare perché se no non riesco manco a pubblicare niente Sanremo no meglio il Mara della Toscana non ce la vabbè che ce l'ho il televisore qua volendo potrei guardarlo ma non ce la posso fare puntino più Fession di Achille Lau certo non potremmo mai lasciarti proprio ci sono puntini adoro eh puntino puntino è un un come si dice un latin lover fuori si mette lì mi dà le zampine per metterselo comunque vi saluto ragazzi perché veramente se no poi la connessione mi va da via i chap e non riesco più a fare niente mando un bacio a tutte ci vediamo alla prossima ciao no ci sono